Vaccinazione anti-covid. L'uslotto ha fatto partire 200 lettere di diffida per quei dipendenti dell'azienda sanitaria, 400 ai primi di giugno, che ancora non si sono vaccinati. Dopo l'avviso Bonario, l'uslotto passa alla fase successiva. Il prossimo step sarà la segnalazione all'ordine ed eventuale sospensione dopo un passaggio in commissione. Resta ancora il tempo per presentare eventuale documentazione a giustificazione della mancata vaccinazione del certificato di vaccinazione se non allegato. Ai medici di medicina privata 1200 invece è stato inviato l'ennesimo sollecito. Intanto se a fine luglio il centro di vaccinazione popolare della Fiera si sposta a Torre di Quartesolo, il centro tamponi sempre della Fiera già da lunedì trova nuova collocazione all'interno dell'ospedale San Bortolo. Viene spostato per i mesi di luglio ed agosto per problemi di personale che ovviamente deve andare in ferie, qui in ospedale San Bortolo sotto le malattie infettive. Le modalità per accedere rimangono le stesse e quindi attraverso prenotazione. Allo stesso tempo, visto il progredire della variante Delta e di altre varianti e la conseguente necessità di mantenere alta l'attività di controllo della popolazione, l'uslotto ha previsto la possibilità di effettuare il tampone anche nei centri vaccinali per chi va a fare la prima dosa o anche la seconda. L'obiettivo però rimane raggiungere il maggior numero di cittadini e così ci si organizza. Con l'aiuto della nostra parte territoriale stiamo creando delle unità mobili che vadano a fare dei tamponi appunto nei mercati.